Una famosa barzelletta, riassume benissimo, è la barzelletta dei quattro chirurghi che discutono in ospedale del loro lavoro. Il primo dice, sul tavolo operatorio vorrei solo ingegneri, quando li apri tutti gli organi all'interno sono numerati. Il secondo chirurgo dice, ma dovresti vedere gli elettricisti, all'interno tutto è codificato, a colori, è impossibile sbagliarsi. Il terzo chirurgo ribatte, ma i migliori rimangono i bibliotecari, tutti gli organi classificati in ordine alfabetico. Tocca al quarto, il chirurgo più anziano ed esperto che dice, ragazzi date retta a me che ho esperienza, i più facili da operare sono i politici. Non hanno cuore, non hanno cervello, non hanno spina dorsale, ma soprattutto la faccia e il culo sono intercambiabili.